Ora, tu hai fatto un riferimento ai contenuti, alla filiera dei contenuti, all'importanza dei contenuti, qui abbiamo due persone che possono dare un grande contributo a questa problematica. La prima è per gentilezza do la parola prima a lei, Monica Possa, e poi chiederei al dottor Confalonieri come vedremo la televisione in futuro, quali sono le nuove professionalità e quali sono le complessità che un grande gruppo editoriale e un grande gruppo televisivo affrontano nel far convergere tecnologie e media che prima evidentemente non convergevano. Monica. Grazie mille. Allora, io credo di portare l'esperienza di uno dei settori che più di altri sta attraversando una trasformazione epocale, che è stata solo accelerata da questa crisi dei mercati finanziari, ma che è veramente una trasformazione resa disponibile e possibile da tutto il mondo della tecnologia. E la trasformazione del mercato che noi stiamo vedendo, del modo in cui le persone acquisiscono informazioni, verificano le informazioni, utilizzano le informazioni e partecipano alla costruzione delle informazioni, è veramente incredibile. La mia società è la società editrice di giornali che voi conoscete come Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, di libri come Libri Rizzoli, Bompiani, Adelphi, è il più grande editore di stampa spagnolo. Quindi abbiamo veramente una visione ampia, che è molto rilevante anche per il tema di cui trattiamo oggi, il tema delle donne. Perché quello che io sto vedendo nel mercato sta cambiando completamente. I mercati sono diventati imprevedibili, molto difficili da prevedere. Come dicevano i panelisti di prima, sono diventati mercati che nascono da contaminazioni di scienze, tecnologie, segmenti diversi, in maniera veramente discontinua e imprevedibile. Noi siamo nella situazione, come gruppo editoriale, di non fare in questo momento un nuovo business plan, perché sarebbe dare dei target, essendo noi una società quotata, sarebbe davvero irrealistico rispetto alla capacità previsiva a tre anni che c'è sui mercati in questo momento. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io, ormai ai 15 anni che mi occupo di risorse umane e cerco per le mie aziende le competenze eccellenti sul mercato, le competenze che cerco in questi 15 anni sono cambiate drammaticamente. Non solo per l'aspetto tecnologico, ma proprio la tipologia di competenze. Uno scenario come questo, discontinuo e imprevedibile, è uno scenario che chiama delle competenze diverse da prima. Prima si cercava la specializzazione, la profondità. Se voi parlate con i broker del mercato delle risorse umane, che sono gli edunter, l'edunter cerca sempre un percorso perfetto, il percorso matematico che ti porta a fare marketing manager, avendo fatto key account manager, avendo fatto product manager, avendo fatto junior product manager, eccetera. Ma questo, poiché noi ci troviamo di fronte a un mondo discontinuo, non ci permetterà più di avere le persone giuste per capirlo. E quindi io sempre di più sto cercando persone che hanno nel loro curriculum competenze diverse, esperienze diverse, esperienze internazionali, che dimostrano apertura, curiosità, passione per quello che fanno, voglia di andare al di là delle cose, una mente aperta. E questo, devo dirvi la verità, è capacità di non guardare a niente con pregiudizio, perché il pregiudizio ti fa andare in una linea retta che non è quella dei nostri mercati. E allora, dove le trovo queste competenze diverse dal passato? Devo dire la verità, le trovo molto di più nelle persone femminili. Io sono una grande, ognuno di noi sulla vicenda delle donne ha un proprio vissuto e una propria filosofia. Il mio vissuto e la mia filosofia sono che ci sono delle diversità, sono fiera di queste diversità. Io non sono mai stata teorica della donna vissuta come woman, quindi della persona che porta delle caratteristiche, delle modalità di operare tipicamente maschili, ma che porta a sé stessa per quello che è. Nel portare noi stesse, io nella mia vita professionale ho trovato un'affezione all'azienda, una passione reale, una generosità e le due doti che mi piacciono tanto e che secondo me sono le due doti di questa fase storica, che sono il coraggio, perché bisogna avere coraggio, è un'era di trial and error, è un'era in cui bisogna prendere delle strade sulle quali nessuno vorrebbe seguirti e che sono invece quelle poi che al fondo hanno il risultato. Ed è un'era dove senza questo coraggio, muovendoci con le logiche dei burocrati delle aziende, non si va veramente da nessuna parte. E la seconda dote è la creatività, la capacità veramente di pensiero laterale, di pensiero creativo che viene dal fatto che la donna è per sua natura multitasking. Io sono quelle cose che diceva prima la collega che era qui, sono professionista, sono madre, sono moglie, sono anche una che vorrebbe avere del tempo per sé che non ce l'ha mai. Quindi siamo degli esseri multitasking per definizione, non abbiamo mai il cervello tutto puntato su una cosa sola e questo ci rende veramente davvero molto creative. E l'ultimo elemento, tendiamo naturalmente a credere in quello che facciamo, ad avere una passione che va un po' al di là del fatto di essere dei dipendenti di un'azienda, che va nel fatto che vogliamo trovare il senso di quello che stiamo facendo e siamo anche un po' fedeli a quello che stiamo facendo. E questa fedeltà che nel rapporto, per le cose che diceva prima anche Patrizia Greco, nel rapporto molto difficile in questo momento tra dipendenti e aziende, dove è difficile trovare un futuro, è difficile trovare un nuovo patto rispetto al passato, questo atteggiamento costruttivo, positivo, femminile, io trovo che faccia veramente la differenza. Chi lavora con me sa che molte volte dico ragazzi dobbiamo fare le pari opportunità, ovvero dobbiamo prendere gli uomini, perché tendo naturalmente a valorizzare queste competenze, attenzione non è l'effetto panda, è proprio a valorizzare queste competenze diverse per un mondo che ne ha bisogno e a trovarle più facilmente nei soggetti femminili. E come ultimo elemento, quello che voglio dare come messaggio della mia esperienza, io ho visto veramente donne brave, di talento, capaci, fermate da due cose. Prima di tutto la mancanza di ambizione, ma non intesa in senso negativo, intesa nel senso delle proprie capacità e delle proprie competenze. Quindi la mia azienda, e sarò interessata poi, credo che anche Intesa abbia lanciato dei programmi interessanti, cerca di fare dei programmi volti a dare alle donne un senso di sé migliore, non per trasformarle nelle famose career women da film, ma per dare la possibilità veramente di esercitare il loro potenziale. E la seconda cosa è la capacità di fare sistema. L'ha detto, credo, Lara Comi all'inizio, è vero. Purtroppo è vero. Noi donne siamo meno capaci di fare sistema del passato e dobbiamo recuperare questa solidarietà che fa parte del nostro DNA. grazie. Grazie Monica. Evito accuratamente di leggervi la storia e le biografie delle nostre relatori, perché ce l'avete in cartella. Però se voi date una lettura attenta, scoprite quanto queste persone, oltre al coraggio dell'eccellenza, come dicevo questa mattina, abbiano fortemente difeso la qualità della loro vita, intesa proprio come valori ai quali Monica faceva riferimento e Patrizia non ha fatto riferimento, ma conoscendola da anni so che ne è una fautrice, oltre che una interprete di grande rilievo.